Abbiamo sempre considerato il tema delle connessioni, della mobilità, delle infrastrutture non un tema a se stante, ma un tema collegato al protagonismo. Abbiamo apprezzato moltissimo il lavoro che sta facendo il Ministero delle Infrastrutture, cioè quello di scegliere sulle opere infrastrutturali importanti quelle che hanno una maggiore valenza per il nostro territorio e la nostra comunità, non più tante opere a cassaccio che poi magari non vengono nemmeno visualizzate, ma cercare di concentrarci su quelle che sono le opere strategiche. Così come ho apprezzato l'impegno nei documenti sul trasporto pubblico locale, su quello anche urbano. Un impegno importante sui capoluoghi delle aree metropolitane, dove si concentra la presenza di 9 milioni di residenti, però ogni mattina, ogni giorno ci sono 1.700.000 utilizzatori della città che raggiungono il centro cittadino dei capoluoghi delle aree metropolitane. Non può continuare così, altrimenti non possiamo chiedere al cittadino di abbandonare il trasporto privato per spostarsi sul trasporto pubblico.